Sono tornato da poco a casa e ancora non so cosa fare da mangiare. Ma che cos'è? Ma è la zoppiera del cazzo! Che è? Sono il Fertility Day! Ah, il Fertility Day in persona! Quello che è importante è che si parli di fertilità. Ma è un'ottima idea! Grazie Ministra! Oh Ministra, facci vedere quanto in futuro possiamo godere! È una splendida idea! Si mangia e mentre si mangia viene anche voglio di fare figli.